Immagini e video pedopornografici nel computer immanente 57enne della Piana di Lucca. Nel suo computer e su altri dispositivi informatici gli agenti hanno trovato materiale scioccante, circa 10.000 fotografie e 78 video di bambini, molti dei quali piccolissimi. Immagini che per l'accusa venivano diffuse in rete attraverso un canale intercettato da un'organizzazione non governativa statunitense dalla cui segnalazione è scaturito il filone di indagine lucchese che ha portato a dare un'identità ad uno degli utenti del sito internet illegale. Per gli inquirenti si tratta di un 57enne della Piana di Lucca. Per lui, dopo il blitz nella sua abitazione e il sequestro del materiale a luci rosse, si sono aperte le porte del carcere di Prato. Una quantità di immagini definita ingente dagli stessi inquirenti è stata trovata nei supporti informatici del 57enne, individuato dopo una complessa e accurata indagine della polizia postale di Lucca che è risalita all'utente, eseguendo una perquisizione che ha portato al recupero delle immagini pedopornografiche.